Musica 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 Oh, dai fiacchi! Omega è mia! Dite al vostro capo che sto arrivando! Renta! Sono tornata! Basta! Avanti così! Aria! C'è un ingegnere di Cerberus che sta violando i cannoni e li tiene offline! Lo troveremo! Arrivano! Trova quell'ingegnere! Trova quell'ingegnere! L'ha eliminato! Inizializzazione cannoni! Aria! Aria! Bisogna armare i cannoni malvolmente! Ci penso io! Disturciamo l'Atlas! Aria! 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 Forza! Alla porta blindata! Oh! 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 Dai, canno. Per un po' terranno a bada le forze del Generale. Su, entriamo. Squadra Bunker! Ritrarre il fonte e abbassare la porta blindata. Arriviamo! Siamo dentro, sigillate tutto! Aria, so che questa è una specie di fortezza, ma ora il Generale sa che siamo qui. Sì, qui siamo a bersagli facili. Non ce ne staremo qui ad aspettarli e voi due non dovreste sottovalutarmi. Specialmente i tuoi. Mirin, tu avevi lasciato Omega. Mi detestavi. Non sapevo del tuo ritorno. Esigo una spiegazione. In realtà non me ne sono mai andata. E non sai che fatica tenertelo nascosto. Non è facile fregarmi. Complimenti. Perché? Io non potevo andarmene. Ma ora vorrei averlo fatto. Beh... Dicivi sempre che sarei stata la tua rovina. Mirin ha un addestramento militare. Può esserci utile. Fai presto a fidarti della gente, eh Shepard? Mirin non ha mai approvato... Com'è che la chiamavi? Il tracollo morale di Omega. E ora ci aiuteresti a difenderla? La liberazione della stazione viene prima di tutto. Sei un po' arrugginita, ma hai ancora un'ottima mira. Parla con il mio ufficiale di servizio. Bray, tienila d'occhio. Certo. Bene Shepard, dobbiamo sbrigarci. La mia vendetta aspetta. Se pensi che ti lascerò concludere questa storia in un bagno di sangue, temo che dovrai ricrederti. E se tu pensi di potermi cambiare, beh... provaci pure. Appena sarà sistemato da questo bunker potremo accedere e pattugliare gran parte della stazione. Forse dovresti seguire un po' le operazioni per assicurarci che tutto proceda per il meglio. E tu cosa farai? Controllerò le mie truppe. Devo sapere quanti sono sopravvissute all'assalto prima di pianificare qualcosa. Non ci vorrà molto. Quando hai finito, raggiungimi al terminale di controllo. Oh... Non ci vorrà. Non ci vorrà. Non ci vorrà. Non ci vorrà non ci lavorare. Non ci vorrà. Potete installare una sorta di fronte? Guardate. Raggiungi. È così, potete. No, scoprire. Qual è il problema? Gli invertitori vanno in colpo, sto cercando una soluzione ma niente! Su Omega devono essercene degli altri chissà dove. Se dovessi trovare degli invertitori che hai, portameli subito. Vedrò cosa posso fare. Grazie a tutti. Niente da fare, servono per forza nuovi invertitori. Rapp, Rapp, ci sei? Riconfigurazione sistemi. Che c'è? Ho l'ordine di aumentare il controllo del centro di comando sui sistemi operativi di Omega. Ho violato la sorveglianza in molti ponti, intercettato vari canali di comunicazione interni. Ma non posso fare di più. Ci sono dei terminali nelle zone controllate da Cerberus e, beh, forse tu potresti raggiungerli. Appena ne trovi uno, immetti un semplice codice per garantirmi privilegi d'accesso e più controllo sui sistemi della stazione. Niente di più facile. Bene.